Ciao Cryptomani, oggi parliamo dell'ultima buzzword alla moda, il Trade Driven Mining. Cosa sarà mai questa nuova buzzword? Ma prima cartello. Investi responsabilmente e a tuo rischio. Ovviamente non si tratta di un consiglio finanziario, però visto che qualcuno me l'ha chiesto, oggi parliamo di Trade Driven Mining. Ma prima diamo uno sguardo appunto a questa notizia. Binance, uno degli exchange di criptovalute più conosciuti, il CEO di Binance, Chang Peng Cao, spero si dica così, ha affermato che nel 2018 ci sarà un profitto minimo di 500 milioni di dollari per Binance e più probabilmente nel caso migliore fino a un miliardo di dollari di profitto che come viene detto nel titolo è più di quello che fanno le banche come media. Quindi sicuramente è un qualcosa da tenere d'occhio. Che cosa ha di particolare questo exchange? Una delle cose particolari appunto è che ha un token che si chiama Binance Token che permette appunto di pagare meno i costi di transazione e di votare nuovi token e di altre funzionalità. Questa cosa che può sembrare diciamo non strettamente necessaria nel campo delle criptovalute invece comunque ha avuto un discreto successo così tanto che anche altre exchange hanno seguito questo tipo di politica. Questo è appunto il grafico di Bitcoin da gennaio fino a luglio che è appunto discendente e il Binance Token ovviamente non è un consiglio finanziario però appunto ha avuto un comportamento diverso diciamo comparato con il dollaro si è più o meno mantenuto su un certo range di prezzo e nel caso di Bitcoin invece ha avuto un trend addirittura ascendente e questa cosa diciamo è stata replicata anche da altre exchange come KuCoin che appunto non ha avuto tutto questo successo come quello di Binance però anche qui abbiamo un token che si è in qualche modo stabilizzato e questa cosa è stata anche presa da CoinEx facendo questo nuovo token che si chiama CAT e questo token appunto dà diritto a tutta una serie di funzionalità per chi lo detiene. Io avevo già cenato questo exchange che è da un po' che l'ho messo anche in descrizione perché è stato uno dei primi exchange che ha incluso Monerov XMB tra le coppie quotate e appunto altre cose carine di questo exchange sono vabbè l'app mobile che secondo me è fatta molto bene provatela non dovete neanche essere iscritti c'è sia per Android che per iOS molto fluida e essenziale e l'altra cosa particolare di questo exchange che può essere visto come sconosciuto in realtà è che dietro a questo exchange ci sono comunque nomi noti che sono appunto via BTC Bitcoin Cash BlockChair che è un explorer di transazioni e quindi come dire in questo mondo instabile comunque ci sono dei nomi noti dietro quindi provatelo nel senso sicuramente è un exchange che avrà ancora da dire visto che dietro ha delle persone che sono già da molto tempo nelle criptovalute e quindi che cosa ha fatto di particolare? praticamente ha annunciato questo trade, drive and mining questo appunto è il contest dove appunto se voi fate un video con certe parole chiave eccetera eccetera quelli che ricevono più visualizzazioni non so riceveranno qualcosa ma il punto non è tanto questo è che questo token viene distribuito in base al volume di transazioni che si fanno su questo exchange e quindi appunto è una cosa particolare quindi sicuramente lo fanno per attirare attenzione tra chi fa arbitraggio o comunque molte transazioni l'unica cosa che appunto comunque volevo sottolineare a differenza degli altri token è che comunque per partecipare a questo tipo di token che vi dà diritto appunto a sconto sulle transazioni e altri tipi di benefici tra cui dividendi eccetera comunque viene richiesto l'identificativo quindi dovrete farvi un selfie col documento eccetera eccetera e qui come tutte le procedure KYC appunto se voi date queste informazioni a delle società a delle entità che non sono più che affidabili quindi c'è sempre il rischio che qualcuno utilizzi poi queste informazioni per altre cose quindi personalmente io sono abbastanza schizzinoso su queste cose e comunque questa cosa qui l'exchange è quello che vi ho detto questa qui è una regola che appunto viene detta e i dividendi verranno dati solo a chi avrà almeno 100 chat token quindi ricapitolando questa questa funzionalità allora qui c'è la descrizione del trade drive and mining questo tipo di distribuzione che appunto guadagnerete questo token solo facendo transazioni su questo exchange la durata è di 180 giorni e verranno distribuiti 20 milioni di token e niente qua appunto ci sono altre regole quindi mi raccomando leggetele e capitele se volete partecipare appunto cosa serve un token che molti la danno per scontata ma secondo me non è così perché il punto non è tanto fare il token e capire che cosa poi ci si può acquistare con questo token quindi si ottiene una fetta delle transazioni giornaliere immagino delle fee giornaliere viene usata per pagare i costi di transazione qui non si parla di sconti quindi potrete decidere quando fate diciamo un cambio da una criptovaluta a un'altra se pagare il costo di transazione in una delle due criptovalute oppure in questo token nativo c'è un piano di riacquisto quindi significa che diciamo più avanti si ricompreranno il token e quindi si immagina che i token sul mercato saranno sempre meno e poi appunto darà diritto a partecipare a campagne sui nuovi token o cose di questo tipo e quindi appunto il diritto di voto per suggerire all'exchange quali nuove criptovalute inserire questo più o meno è la panoramica di questo token che appunto è un'idea che c'è già stata in altri exchange però anche qui appunto notiamo delle novità come questo trade driving mining quindi direi che questo è quanto fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi tipi di token se li usate effettivamente per le fee se li usate per riserva di valore se non vi piacciono ed è tutto vi saluto ciao e ci vediamo in un altro video